Da Giulio del Fiorentino e Matteo Bedini che ci segue dalla Legia, ben trovati, l'edizione del TG Noi dedicata alle notizie dalle altre province toscane. Iniziamo da Arezzo, un uomo di 57 anni è morto stamani a causa di un incidente stradale avvenuto poco prima delle 11 sulla provinciale 31 in via di Manzano nei pressi dell'ippodromo di Farneta a Cortona, secondo quanto spiegato l'uomo di Foiano della Chiana viaggiava su una moto che per causa in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con un furgoncino sul posto, i sanitari del 118 oltre ai vigili del fuoco e la polizia municipale di Cortona. Un caso di dengue è stato riscontrato in un bambino rientrato da Cuba la settimana scorsa. Il piccolo paziente è ricoverato in isolamento all'ospedale San Donato di Arezzo. Secondo quanto appreso sta bene, il bambino ha manifestato i primi sintomi a tre giorni dal rientro, portato in ospedale Arezzo dai familiari. I sanitari gli hanno riscontrato il virus di dengue, tipico dei paesi tropicali. Di origine virale la dengue è causata da quattro virus molto simili ed è trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno a loro volta appunto una persona infetta. Il paziente è stato messo subito in isolamento, attivati i protocolli di prevenzione, disinfestata dalle zanzare anche la zona intorno all'ospedale. I medici hanno rassicurato sulle condizioni di salute del bambino. La Guardia di Finanza di Siena ha scoperto quattro lavoratori impiegati in nero in un ristorante di Colle Valdelsa che è stato sanzionato con una multa da 20 mila euro. Lo spiegano le stesse fiamme gialle in una nota precisando che il titolare del locale aveva omesso di effettuare la preventiva comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro per i quattro dipendenti, tre italiani e un albanese. Gli atti sono stati inviati anche a INA, INPS e Ispettorato Territoriale. Dunque 20 mila euro per quattro lavoratori al nero. La Toscana fa un passo avanti sulla via dell'idrogeno per l'utilizzo delle energie rinnovabili anche connesso alla mobilità sostenibile per l'autonomia energetica del Paese. Così il Presidente della Regione, Eugenio Gianni, in occasione della pubblicazione di un avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse nell'ambito della produzione, distribuzione e usi finali dell'idrogeno in Toscana. L'avviso riguarda in particolare idee progettuali, progetti di ricerca di base, industriale o di sviluppo, esperimenti, formazione, investimenti a carattere ambientale, sperimentale, produttivo e infrastrutturali. Si possono presentare queste manifestazioni di interesse fino a metà settembre da parte di imprese, enti locali e organismi di ricerca. Ammontano a oltre 97 milioni di euro le risorse stanziate per le scuole della Toscana grazie al PNRR. Nell'ambito del piano scuola 4.0, programma di innovazione didattica per avere lezioni sempre più interattive e studenti, sempre più coinvolti se in Italia il piano vale 2 miliardi e 100 milioni di euro. Per la Toscana i 97 milioni sono ripartiti in 72 per le classi innovative della Next Generation Classroom e 24 per gli spazi per le professioni digitali del futuro, i Next Generation Labs. Grazie ai fondi su Next Generation Classroom si regge una nota del Ministero dell'Istruzione. Ciascuna scuola del primo e del secondo ciclo potrà trasformare almeno la metà delle classi attuali, progettando nuovi ambienti e una nuova didattica secondo le proprie esigenze. Il Next Generation Labs si rivolge alle scuole secondarie di secondo grado per la realizzazione di laboratori. Bene, è tutto per le notizie della regione toscana, un breve break, tra poco il TG Noi della provincia di Lucca.